Quali bonus famiglia 2019 che il governo Conte ha deciso di inserire tra gli emendamenti, di prorogare e rinnovare attraverso la nuova legge di bilancio? Cercheremo di fare chiarezza circa le misure previste in ambito familiare insieme alle professioniste in studio a seguito della nostra sigla. A tutti voi ben ritrovati a questa nuova puntata di Focus. Approfondiremo l'argomento dei bonus famiglia 2019, lo faremo con le ospiti presenti. Saluto e ringrazio per la disponibilità Silvia Medini. Grazie, a voi. Ivana Lucia Rasulo. Grazie, buongiorno. Avvocato Rasulo, cosa sono i bonus famiglia 2019? I bonus famiglia sono una serie di aiuti economici a sostegno del reddito di chi si trova in gravi situazioni economiche e anche delle famiglie con un nucleo numeroso, quindi con tre o più figli. Sono una serie ovviamente di aiuti che il governo italiano, anche per il corrente anno, ha voluto prorogare. Tra questi bonus figurano l'assegno per la mamma domani o assegno di natalità, la carta famiglia, il bonus bebè, il reddito di cittadinanza che ha sostituito il reddito di inclusione, il bonus asilo nido. Non è stato prorogato in assenza delle risorse finanziarie il voucher babysitter, che era un aiuto sostanziale che era previsto dal governo in favore delle mamme che terminato il congedo di maternità obbligatorio e volendo rientrare al lavoro e non usufruire del congedo parentale, potevano usufruire di una contribuzione di 600 euro mese per 5 mesi e poter rientrare al lavoro. Purtroppo il bonus non ha visto ovviamente finanziate le possibilità del governo italiano e gli uffici IMS hanno fatto sapere, questa è una comunicazione che credo abbia interesse, che per i bonus già richiesti, quindi alla data del 31 dicembre 2018, dovranno essere assolutamente utilizzati entro il 31 dicembre di questo anno, diversamente il bonus che sia stato utilizzato per l'asilo nido invece dovrà essere utilizzato entro il 31 luglio 2019, quindi c'è questa indicazione del governo. Per quanto riguarda il bonus mamma domani, cerco di analizzarli, almeno di iniziare da questo, il bonus mamma domani è stato istituito dalla legge di stabilità del 2017, si parla di un bonus strutturale perché è stato determinato in misura fissa in euro 800 annui e non ha alcun limite di reddito, quindi la famiglia richiedente non è tenuta a esibire un indicatore ISE al di sotto di determinati parametri. Questo bonus è stato riconosciuto in favore delle donne in gravidanza o delle madri, allora quando si verificano determinati eventi richiesti dalla legge di stabilità, il compimento del settimo mese di gravidanza, il parto se interviene prima dell'ottavo mese di gravidanza, l'adozione nazionale e internazionale oppure l'affidamento preadottivo nazionale e internazionale. Ovviamente i requisiti ulteriori che sono richiesti per quasi tutti i bonus sono la cittadinanza italiana, la cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea, la cittadinanza extra UE ma con ovviamente un valido permesso o titolo di soggiorno. Occorre oltressi essere residenti in Italia. Il presente bonus viene erogato ovviamente dietro la presentazione di una specifica domanda che deve essere formulata agli uffici IMSS e lo vedremo anche per gli altri, la consueta domanda è rivolta sempre agli uffici IMSS. Le modalità sono sostanzialmente tre, in via telematica quindi accedendo al sito IMSS per chi dispone di un PIN dispositivo oppure tramite un numero verde di utenza fissa gratuito che l'IMSS ha messo a disposizione degli utenti oppure tramite i patronati e i servizi CAF. Quindi questo è il bonus mamma domani. Avvocato Medini, mentre la proroga bonus bebè 2019 cosa prevede? Allora diciamo che ci sono una serie di incentivi di aiutare le famiglie che purtroppo mi rendo conto sono sconosciuti ai più che sono stati poi introdotti già nel 2016 con la legge di stabilità. Anche questo bonus è sempre per aiutare sia le famiglie disagiate ma anche per aiutare le madri che lavorano per avere appunto un appoggio economico e diciamo che quasi tutti i bonus sono stati prorogati a parte come diceva prima la collega il voucher asilo nido. Secondo me è necessario che la cittadinanza sappia che c'è la modalità c'è la possibilità anche di informarsi presso sia i CAF, presso direttamente l'Inps e presso i comuni. Al di là dei singoli requisiti che è detta la legge mi sono proprio resa conto che manca questa informazione nel senso che ci sono una serie di incentivi che anche questo governo ha riprorogato come appunto il bonus di cui stiamo parlando. C'è la possibilità di avere un contributo per l'affitto c'è la possibilità di avere una carta famiglia per le famiglie numerose sono tanti gli incentivi previsti il retto di cittadinanza va a accumularsi anche con quanto previsto appunto dalle leggi justifiche sulla famiglia ma mi sembra che manchi proprio un'informazione di base perché in effetti le misure messe sul tavolo sono tante e numerose e non tutti sanno né come accedervi né dove presentare la domanda né quelli che sono i requisiti previsti quindi i bonus in realtà sono stati prorogati quasi tutti tranne appunto il voucher babysitter. Il bonus bebè 2019 è stato confermato dalla legge di stabilità per le famiglie con figli nati e adottati in un affidamento preadottivo dal primo gennaio di questo anno sino al 31 dicembre. Il dato significativo del bonus è stato un aumento del 20% dell'importo di cui le famiglie potranno usufruire per i secondi figli quindi dai secondi figli in poi il contributo sarà maggiorato. È richiesto un indicatore ISEE non superiore ai 25 mila euro quindi la domanda è condizionata a questo fattore reddituale e gli importi che la legge di stabilità ha previsto sono sostanzialmente questi. Ci sono 80 euro per il primo figlio se la soglia di reddito è al di sotto dei 25 mila euro ed euro 96 per il secondo. Mentre se la soglia di reddito è al di sopra non è al di sopra, mi scusi, dei 7 mila euro in questo caso il bonus è 160 euro per il primo figlio e 192 per il secondo. La domanda, come per tutte le agevolazioni, deve essere formulata agli uffici IMSS c'è una specifica, c'è un termine entro il quale deve essere formulate sono 90 giorni e l'IMS ha specificato che le domande pervenute oltre detto termine avranno ovviamente decorrenza non dalla data di nascita o di adozione del minore ma dalla data della domanda. Ovviamente la domanda deve essere corredata da documentazione giustificativa e in questo caso specifico all'ISE farei una breve parentesi solo per chiarire che la legge di stabilità ha agevolato le famiglie nella redazione di questo documento che di fatto rappresenta la situazione reddituale. È un documento che in base alla circolare IMSS recentemente assunta può essere richiesto dal soggetto che vuole beneficiare dell'agevolazione presentando il DSU che è una dichiarazione sostitutiva unica che certifica la situazione reddituale patrimoniale del richiedente e munito di questa autocertificazione il soggetto può recarsi o presso l'ente dal quale pretende di avere l'agevolazione oppure ai comuni o ai CAF come diceva la collega precedentemente. Quindi diciamo che è un'agevolazione che può aiutare il richiedente che magari si trova incapace di poter insomma ricostruire la propria situazione reddituale. Il bonus asilo nido 2019 proroga confermata e aumento a 1500 euro. Esatto, il bonus asilo nido è stato confermato con la legge di stabilità e se ne prevede ovviamente con la riserva che le risorse finanziarie lo consentono fino al 2021. L'aumento significativo rispetto alla legge di stabilità che lo aveva istituito nel 2017 appunto da 1000 euro a 1500 euro. Sicuramente un grande aiuto per le famiglie che necessitano ovviamente di poter sostenere le reti di iscrizione agli asili nido dei propri bambini. Questo bonus ovviamente è elargito senza alcuna distinzione tra struttura pubblica e privata e può essere utilizzato anche per forme di assistenza domiciliare lo vedremo poi più avanti per le famiglie che hanno bambini affetti da gravi patologie croniche e come tali impossibilitate a fruire delle strutture poste ai servizi per l'infanzia. Parliamo infatti del bonus asilo nido bambini malati gravi. Esatto, esattamente. è la fruizione in un'unica soluzione dei famosi euro 1500 che gli uffici IMSS riconosceranno alle famiglie che presentando ovviamente apposita domanda documentata si trovano nella condizione di dover assistere a casa quindi di utilizzare questo contributo per forme di assistenza domestica e quindi familiare per bambini che sono affetti da gravi patologie. In questo caso la domanda, l'IMS l'ha specificato deve essere corredata da un certificato rilasciato dal pediatra di riferimento che attesti la grave patologia patologia tale per cui il bambino non può frequentare la struttura pubblica o privata. In questo caso l'IMS precisa nelle sue circolari che ci sarà un'attenzione particolare per queste domande perché ovviamente la premura è quella di poter dare i fondi con la tempistica di cui la famiglia ha necessità. Bonus asilo nido 2019, per godere di tale bonus quali i requisiti? Allora i requisiti, innanzitutto la domanda deve essere formulata sempre agli uffici IMSS con la consueta modalità che ho riferito prima. Ovviamente la domanda richiede delle specifiche indicazioni. L'IMS in questo caso ha dettato proprio una specifica circolare molto dettagliata in cui occorre indicare la denominazione dell'asilo, la partita IVA, le generalità del minore, il codice fiscale, le generalità del genitore che sostiene la spesa perché sarà colui che beneficerà ovviamente del bonus e la specifica per consentire che questo bonus venga erogato è di documentare i titoli di spesa. In sostanza una volta presentata la domanda l'IMS ha chiarito che l'erogazione avverrà solo dietro presentazione dei documenti di spesa quindi ci riferiamo alle ricevute di pagamento, alle fatture, alle quietanze o per gli asili aziendali perché esistono anche quelli ci vuole un'apposita dichiarazione del datore di lavoro o diversamente le famose trattenute in busta paga. Per questa finalità l'IMS ha peraltro istituito un'apposita app quindi ha facilitato diciamo col mondo dell'elettronica che si chiama bonus nido a mezzo della quale può essere inviato il documento, il titolo di spesa tramite un elaborato fotografico fatto dal telefonino e protocollato quindi inserendo i riferimenti della propria domanda quindi ha agevolato diciamo gli utenti con questo applicativo. Avvocato Medini, assegno di maternità 2019-IMS a carico del Comune e dello Stato in cosa consiste? Allora l'assegno di maternità viene sempre erogato dall'IMS ma arriva dallo Stato e dal Comune di Residenza secondo che la donna sia lavoratrice o disoccupata. è un ulteriore incentivo appunto per aiutare le donne in difficoltà e in stato di gravidanza che hanno avuto un bambino per integrare anche il fatto che magari non lavorino e spetta a tutte le mamme lavoratrici che rispettino il limite massimo del reddito ISE deciso come per l'importo del bonus economico di anno in anno. È bene precisare che questo aiuto alle famiglie è possibile dal primo al secondo figlio e non dal terzo come molti credono. Anche qui ci sono una serie di requisiti specifici devi essere comunque cittadino italiano o comunque cittadino europeo e soprattutto è importante capire quelli che sono i limiti dell'ISE. Ogni persona che ha diritto a queste erogazioni deve comunque prima rivolgersi al sindacato che è la strada più facile per farsi determinare quello che è proprio il reddito ISE e farsi rilasciare l'idona certificazione. Anche questo dato è molto importante perché quasi tutti i contributi di cui stiamo parlando viaggiano sulla dichiarazione ISE della persona richiedente. L'organismo viene erogato dallo Stato però la domanda viene trasmessa in via telematica dal CAF di competenza o anche da altri intermediari. Ci sono anche appunto l'IMSS sta adottando dei mezzi elettronici dove comunque puoi registrarti presso il sito ottenere un PIN avere anche l'app dedicata in maniera tale che viaggia tutto quanto su via telematica. Più che altro con questo obbligo almeno mi rendo conto che chi ne ha diritto riesce a consultare il portale ed avere il maggior numero di informazioni perché mi rifaccio a quello che ho detto precedentemente il problema per l'erogazione di questi contributi è ottenere ed avere le informazioni giuste per capire quelli che sono i requisiti e le modalità per come presentare la domanda perché rischiamo di perdere un termine rischiamo di arrivare troppo tardi rischiamo di non avere tutta la documentazione la cosa più importante è capire requisiti e se si ne ha diritto o meno e soprattutto quella che è la documentazione che va presentata all'organismo diretto è per quello che dico di rivolgersi o al sindacato ma anche i comuni i comuni o tramite i servizi sociali per le categorie più disagiate o tramite anche gli sportelli informativi riescono comunque a indirizzare gli utenti e a dare tutte le informazioni del caso a carico del comune a carico dello stato esistono delle differenze ma di fatto è sempre lo stato che lo eroga però da una parte si passa direttamente dall'IMS dall'altra parte è il comune di residenza che eroga il contributo è sempre lo stato in realtà è diversa la modalità di erogazione del contributo dipende sempre se la mamma sia occupata o disoccupata la differenza sostanziale è questa io vorrei sottolineare anche questo aspetto avvocato Rasulo per il padre lavoratore che sostituisce la mamma per abbandono affidamento esclusivo il requisito contributivo rimane medesimo esattamente la legge di stabilità del 2019 ha chiarito che nel caso in cui il padre si trovi solo a dover gestire il minore quindi in ipotesi di abbandono della figura materna o di affidamento esclusivo al padre la stessa contribuzione e la legge richiede tre mesi di versamenti contributivi richiesta per il padre quindi si trova nella medesima condizione a quanto ammonta l'assegno di maternità? l'assegno di maternità per il 2019 dovrebbe essere all'incirca c'è stata una pubblicazione sulla gasetta ufficiale del 6 aprile scorso 338,89 euro per circa 5 mensilità assegno di maternità 2019 comune a chi è riservato tale segno e come presentare la domanda? allora l'assegno di maternità a carico del comune lo dice la parola stessa dovrà è posto a carico delle amministrazioni comunali anche se di fatto viene erogato dagli uffici IMS è un assegno ovviamente a sostegno delle famiglie con difficoltà e come diceva prima la collega Medini è riservato alle madri disoccupate o casalinghe o chi purtroppo non ha potuto usufruire dell'assegno di maternità a Stato perché non ha versato i tre mesi contributivi richiesti dalla legge è un assegno che è segno di competenza comunale deve essere formulata la domanda al comune tramite i patronati di zona le amministrazioni locali ovviamente possono prevedere anche requisiti specifici quindi l'invito nostro è di rivolgersi al comune presso gli uffici preposti e verificare quali sono i dettagli perché queste ovviamente sono le indicazioni di massima fornite e rinvenibili su qualsiasi sito ma è opportuno riferirsi sempre al comune per avere il dettaglio e l'importo della prestazione l'importo della prestazione è sempre analogo a quello dell'assegno di maternità a Stato 338,89 euro tra l'altro può essere cumulato la specifica che ha offerto l'Inps è che può essere cumulato con il bonus bebè e il bonus mamma domani quindi non ci sono criticità nella richiesta di tutti e tre i bonus salvo che ovviamente ci sia la ricorrenza dei requisiti Avvocato tra i vari aiuti economici concessi dallo Stato troviamo l'ANF l'acronimo di assegno al nucleo familiare esatto l'assegno al nucleo familiare è stato previsto per aiutare le famiglie più numerose quindi le famiglie che abbiano tre o più figli l'importo è di circa 114 euro e ovviamente c'è un dettaglio ISE che dovrà essere rispettato ma per il 2019 non è stato ancora reso noto all'incirca dovrebbe essere sui 17 mila euro ma non voglio essere prudente sull'indicazione dell'importo ed è appunto previsto in favore di famiglie che abbiano ovviamente figli a carico e si trovino in difficoltà comprendiamo che l'importo non è sicuramente un aiuto concreto però la sostanza è che anche quest'anno è stato rinnovato tra l'altro c'è stata anche la possibilità di usufruire ancora quest'anno della famosa carta famiglia esatto che è stata rinnovata è un aiuto fondamentale per i nuclei familiari con un reddito non ise non superiore ai 30 mila euro è una carta che è concessa dalle amministrazioni locali della scontistica delle agevolazioni e anche un pagamento diciamo ridotto delle utenze tra l'altro il ministero del lavoro dovrebbe pubblicare a stretto giro l'elenco degli esercizi che saranno abilitati e quindi diciamo che questo rappresenta insieme all'assegno per il nucleo familiare un aiuto per le famiglie numerose Avvocato Medini cerchiamo di ricapitolare per i telespettatori i bonus per quest'anno certo io vorrei ricordare innanzitutto che esiste anche dal 2019 il reddito di cittadinanza con una dichiarazione anise inferiore 9300 euro questo reddito di cittadinanza va a compensare o essere integrato da tutti i bonus che abbiamo detto quindi abbiamo il bonus asilo il bonus mamma l'assegno di maternità abbiamo carte servizi che consentono alle famiglie numerose di avere sconti di agevolazioni abbiamo il contributo affitto abbiamo appunto il reddito di inclusione che viene sostituito dal reddito di cittadinanza quindi viene abrogato ma in realtà viene chiamato con un altro nome con altri requisiti ma la sostanza delle cose è la medesima quindi abbiamo il bonus mamma abbiamo delle agevolazioni per il padre di fatto è stato prorogato quasi tutto tranne alcuni spunti e ribadisco non voglio essere ripetitiva e ogni cittadino ogni mamma ogni cittadino che ritiene di avere diritto deve rivolgersi al CAF al patronato al comune ma anche direttamente al sito dell'Inps perché le misure effettivamente compatibilmente con quelle che sono le risorse di bilancio sono tante e alcune sono alternative alcune vanno a integrarsi l'una con l'altra però esistono ancora quindi l'importante è informarsi è importante che scaricare l'app dell'Inps che consente di prendere appunto il bonus bebé ma consente anche di avere delle informazioni in più l'informazione in queste situazioni è la cosa fondamentale assolutamente sono d'accordo voi cosa ne pensate delle misure adottate dal governo Conte allora secondo me l'unica critica che muovo che non è assolutamente politica è appunto la confusione perché anche noi nel riprendere l'argomento abbiamo dovuto veramente studiare e capire e considerati che più o meno siamo dentro comunque l'argomento giuridico perché è il nostro lavoro quindi le misure sono tante poca chiarezza e manca proprio anche il punto di riferimento appunto dove attingere le informazioni però le misure ci sono esistono devono essere accessibili devono essere accessibili anche la misura del reddito di cittadinanza ha creato un po' di confusione perché forse non sono chiare le circolari il sistema italiano giuridico questo vale da sempre purtroppo non hai ogni anno la riformulazione delle normative sono normative che vanno ad abrogare integrare e riprendere quindi la confusione è tanta anche per la metodologia legislativa che viene adottata ma da sempre questa non è una critica a questo governo no 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 assolutamente quindi purtroppo la nostra metodologia legislativa è quella di emendare riprendere abrogare e quindi devi fare una serie di correlati una serie di collegamenti che non sempre sono semplici che il cittadino medio non riesce quindi no concordo con con la collega Medini nel senso che non c'è chiarezza non c'è linearità non c'è una continuità nel progetto anche perché vedere annullati determinate agevolazioni senza dare poi un'informativa precisa sulla tempistica sui modi l'abbiamo detto pochi minuti fa sul voucher babysitter sono famiglie che hanno fatto affidamento su quella su quella contribuzione e magari non sanno neanche che se non la utilizzano entro quest'anno si intende rinunciato perché non c'è la consuetudine di accedere ai siti dell'IMS che tra l'altro l'informativa non è rinvenibile e quindi alla fine non essendoci una linearità e una chiarezza l'utente medio si trova non assistito e non affidato ovviamente dover sempre fare capo ai CAF o agli uffici IMS gli uffici IMS sono eccessi nel loro lavoro ma ovviamente non hanno l'organico sufficiente per poter assistere il cittadino ci vorrebbero degli sportelli dedicati e ovviamente ci vorrebbe una concentrazione di risorse su determinati bonus strutturare troppe agevolazioni senza che poi il sostegno sia concreto secondo me non è funzionale a dare una concreta assistenza alle famiglie solo questo 1500 euro per un bambino che è affetto da gravi patologie non è nulla bisognerebbe verificare i casi singoli e bisognerebbe impiantare delle forme di sostegno diverso per l'amor di Dio un plauso a questo governo ma ci vorrebbe altro una maggiore organizzazione sì avvocato Medini quindi informiamo nuovamente i telespettatori coloro che ci stanno seguendo da casa a chi rivolgersi sicuramente il sito dell'Inps è una prima fonte di informazione anche se magari a volte può essere poco chiaro e faraginoso i comuni di riferimento allora per le categorie disagiate i servizi sociali sono sempre a disposizione per gli aiuti appunto per le famiglie che hanno un ISE molto basso ci sono i CAF e i patronati che sono le strutture dedicate dei sindacati a cui si accede anche quasi gratuitamente che danno tutte le informazioni del caso per chi magari vuole anche gli avvocati possono ricostruire poi anche rivolgerti a un professionista un avvocato un commercialista che ti dà una mano per ricostruire quello che è il percorso a te dedicato ma secondo me anche il comune proprio come prima base sul territorio ha tante informazioni da fornire quindi anche rivolgendosi semplicemente al proprio comune quasi tutti i comuni sono strutturati con lo sportello informativo quindi se uno non si vuole rivolgere ai servizi sociali anche gli sportelli informativi gli URP dei comuni ti sanno indirizzare e il sindacato svolge un ruolo fondamentale perché è quello che magari ha maggiori informazioni io ringrazio le professioniste in studio per le valide informazioni grazie all'avvocato Silvia Medini grazie a voi Ivan Lucia Rasulo grazie a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete alla prossima puntata arrivederci grazie a tutti